Sì, sai squirtoni come l'ha definito il bovaro saltatore? Per riconoscere il bovaro saltatore. Lui è grande, ma quando ti arriva qua è leggero. L'ha fatta volare? Sì, ma non ti arriva di peso. Se uno si siede per terra come fanno? Ti travolgono, ti liccano, ti saltano. Il famoso bovaro rampano. Eh sì, è giusto. Sei contenta Wendy? Eh sì. Tu che credevi di essere venuta in prigionia? Certo che... Da casa libera.